Carissimi amici, buongiorno a tutti, ben ritrovati dal vostro Max. Siamo ancora sul Grande Fratello VIP perché ci sono le novità. E stavolta i protagonisti sono stati Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini che hanno praticamente dato via a un battibecco. Tutto è successo in prima mattinata, quando i concorrenti erano intenti a cominciare a svegliarsi, cominciare a stiracchiarsi per, diciamo, cominciare la giornata. E in particolare ad essere sembrato molto adirato è stato il costumista che ha attaccato la sorella di Elettra. Non ha affatto visto di buon occhio un suo atteggiamento e gliel'ha fatto notare, ma in maniera molto dura. Al Grande Fratello non c'è stato solo questo momento non proprio buono tra Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini, perché infatti ha avuto un crollo Luca Salatino che si è sfogato con Sara Manfuso, a cui a sua volta ha rivelato di voler abbandonare la casa. Dicendo, sono 5 giorni che piango, non ce la faccio più. Sto vivendo male tutti i giorni così, voglio proprio andarmene a casa. Non me la sto vivendo bene. Ho l'ansia tutto il giorno, non riesco a fare nulla. Domani, casomai, chiederò ufficialmente di uscire. In questo momento ho una mancanza e non vedo la mia ragazza da 10 giorni. Quindi forse, amici, diciamo che il motivo potrebbe anche essere quello. Cioè, nel senso, gli manca la fidanzata. Mentre invece si stavano alzando tutti, all'improvviso al Grande Fratello Giovanni Ciacci è stato sorpreso da un comportamento di Ginevra Lamborghini. Un comportamento inaspettato. Lei ha cominciato a gridare buongiorno e quel suo tono di voce molto alto ha infastidito l'uomo. La sorella di Elettra ha compiuto un gesto che, secondo lui, avrebbe fatto unicamente soltanto a casa sua, non in un luogo dove sono presenti altre persone praticamente ancora estranee. Anzi, qualcuno poteva stare ancora a dormire, tra l'altro. È il sito Blasting News che ha riportato le affermazioni esatte del vilpone, cioè proprio quello che ha detto. Ciacci ha detto, oh, ma mica stai a Bologna a casa, eh? Abbassa i toni. Giovanni. Quindi si augura che mai più la compagna di avventura possa rendersi protagonista di un episodio del genere. Lei probabilmente aveva fatto questo gesto a fin di bene, senza pensare che qualcuno potesse arrabbiarsi. Ma le sue urla non sono piaciute a Giovanni che si è lamentato abbastanza. Quindi staremo a vedere se questo possa essere o meno l'inizio di un rapporto burrascoso tra i due, oppure l'uno perdonerà l'altro. Questo si vedrà. Prima di salutarvi ricordo a tutti che Giovanni Ciacci ha approfittato per spiegare il vero motivo della sua presenza al programma, cioè perché Giovanni Ciacci è al grande fratello VIP. Sì, potrebbe essere semplicemente perché un concorrente serve, ma non è per questo, o non è solo per questo. Ha detto, ho deciso di rivelare la mia siero negatività. Dico negativo per non dire positivo, se non me blocca nel video e insomma vorrebbe abbattere questo muro di ignoranza. Ha detto, penso che ci sia ancora tanta ignoranza su questo argomento. Sì, perché nel 2022, poi a parte che non si rischia più di andarsene all'altro mondo, perché è curato nella maniera giusta adesso, si può vivere e non più sopravvivere, che tra l'altro è diverso. Questo è tutto signori, chiudo con la sua dichiarazione, vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro a tutti voi una buona domenica e una buona giornata.